Ci risiamo. Il passaggio a livello della tangenziale di Sondrio al confine con il capoluogo e montagne in Valtellina è di nuovo andato in tilt. Verso le 11.30 di questa mattina un guasto all'impianto ha bloccato il dispositivo che consente l'abbassamento delle sbarre mentre stava viaggiando in prossimità della zona il treno proveniente da Tirano. I segnali acustici e luminosi hanno messo in allerta automobilisti e camionisti in viaggio che si sono fermati lasciando passare il convoglio in transito a passo Duomo ma quanto accaduto riporta prepotentemente in primo piano il tema della sicurezza nei pericolosissimi incroci strada ferrovia in particolare quello in questione che sorge su una strada a scorrimento veloce la statale 38 sul posto gli agenti della squadra volante della questura di Sondrio e il personale di RFI intervenuto manualmente per abbassare le sbarre e risolvere il problema. Certo il passaggio a livello della tangenziale di Sondrio non è purtroppo nuovo a questi rischiosi disservizi. Meno di quattro mesi fa si era verificata la stessa cosa senza contare le volte precedenti. Era l'11 marzo scorso quando attorno alle 10.40 si erano attivati segnali di allerta acustico e luminoso del passaggio a livello anche in quel caso l'emergenza aveva creato esclusivamente disagi alla viabilità bloccando il traffico per alcune decine di minuti e provocando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Quanto accaduto nuovamente è indicatore della delicata criticità che hanno i punti di intersezione tra la rete stradale e l'infrastruttura ferroviaria una condizione di precarietà che deve trovare soluzione a tutela della pubblica incolumità.